Ciao ragazzi, sono io Dylan Nino! Sono tornato ragazzi, sono rientrato nella camera di mio fratello Dylan senza che lui lo sappia E oggi voglio registrare io un video a posto suo Mi dispiace caro fratello Volevo registrare un video io ragazzi perché insomma mio fratello Dylan vuole che faccio video Dicci che non mi apprezzate Facciamo una sorpresa Dylan, arriviamo ai 300 like Così ragazzi vediamo se non gli dite che non gli piacciono i miei video Quindi lasciate un like Ok, siamo qui con il mio Mario Siamo qui con Mario E adesso andremo a giocare a Stumbleguys Non so se mio fratello porti ancora Stumbleguys Però grazie voglio giocare a quello Ok ragazzi siamo qui su Stumbleguys Con il mio amico Mario Sì ma io ti voglio bene anch'io Comunque oggi siamo sulla car di mio fratello Vediamo cosa e se continui a giocare a Stumbleguys Dopo tutti questi mesi che io sono stato assente Quindi lasciate un like se volete ancora il mio video E adesso ti sono tovo Mario, ciao! Allora, andiamo subito a vedere tutte le cose Io avevo visto i video di qualche youtuber Ma non so se hanno fatto qualcosa Comunque andiamo nella personalizza e vediamo cosa hanno fatto Le skin sono praticamente rimaste tutte uguali Ma avranno aggiunto le rare, qualche rare, epiche, legendariche E hanno messo una nuova skin e mitico Ah, la leggenda delle skin mitiche Finalmente si è avverata Molto buona da sapere Hanno aggiunto un sacco di speciali Dalla mia assenza E anche un sacco di mitiche Che sono credo più rare delle speciali Comunque Il mio fratello non ha ancora trovato una Credo che dovrò rimediare Comunque Vabbè, scioperò con i suoi soldi Quindi lasciate un like E direi ragazzi di iniziare una partita Uh, IceHig Ma questa mappa io la conosco a memoria Vediamo se se la corre a capace Perché io non gioco a Stumbleguys Dall'ultimo video che mi avete visto Che non mi ricordo qual'era Quindi me lo direte a voi nei commenti Ma aiuto Ciao ragazzi Eh, ma è una palla Cos'è la palla che è lui? Pogliamo, apriamo il 3 Figo, ma io posso diventare una palla Ma da quando? Sono proprio un pallone In questo video devo salutare Le tre persone che hanno avuto la polla segreta Nell'ultimo video In questo video devo salutare Al 0615 Su un drop official Trattino basso 1 E talk dark Cari ragazzi che avete trovato la polla segreta Raccomando, se anche voi Volete essere salutati in un prossimo video Trovate la polla segreta in questo video E scrivetela sotto nei commenti Ciao belli Ok, questa patuta è un po' squalida Block dash Eh, ma io sul block dash non ho scarso Ma io voglio subito Ma vabbè dai, ci proviamo Vediamo se me la cavo ancora No, 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 no Levatevi Ok Che bella è sulla palla Questa mi dà i ponni Va bene, vuoi i ponni? Vedi questo Sì Per un pelo Sharks Cos'è Sharks? Ci sono i squali Aiuto I squali Ma i squali Mi mangiano Forse sì Forse mi mangiano Eh, ma posso di lanciare pombe Langiano squali Vai via Ah no, sono diventato la palla Ciao Cosa vuoi? Cosa guardi? Vai via Allora Come Alex però È per il tuo meglio Ah, ma è bella la skin D'orata Ah No, non l'ho colpito Ciao gattino No, no Come non è caduto? Che Ma che tonto Ah 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 Ma perché ti Sì Ragazzi Ho ucciso da sogno Io non ho fatto niente L'avete visto tutti Io non ho fatto niente Ah ah Bellissimo Secondo me ragazzi Una missione Eh Cosa è smaccato Ok Vediamo un po' Non puoi trovare niente di che Sapete Voglio Voglio fare una cosa Tanto ne ho trattata Facciamo due giri Così per Vediamo cosa trovo Ma l'hanno giurata Sta ruota Per almeno trovare Gli altri speciali Quelle Che mancano Secondo me no Ma quando la giuriranno A Natale Vabbè Magari potrebbe essere Comunque Facciamo il secondo game Caps landing No questa mappa è nuova Io non l'ho mai vista Sta mappa Che mappa è No Io questa Ragazzi non la conosco Cioè voi ci avete mai giocato A sta mappa figo Ma quindi girano Sti 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 Va bene Va bene Venta una palla Così sono più veloce No Sono tornato normale Ma diventare palla È stracomodo Sei molto più Più veloce Io vi saluto Tanto sono una palla No No Vai Ero là Ragazzi L'avete vissuto Tutti Ero là Signor Granchio In realtà La voglio al spino Però Voglio vincere Grazie The bear È fragola Ciao fragola Vabbè Timky wiki Lazo trace Questa mappa è strafiga Ciao stable guy Mi spiace Non mi date poni Ciao Sam diamond Mi dispiace No Ho sbagliato Cavolo Vieni qua No 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 Vai via Eh ragazzi Non so più giocarci Ma ragazzi Ma è tonto Si è buttato giù da solo Sì Ok Scusate Troppo Mi dispiace Vabbè Questa Bombarda Ma te la conosco Ne vado Ciao Ok Volevo No volevo Volevo Intrattare Cade in pugno Tipo Così Ciao bro Cadi Cadi No perché non cade Vai vai Cadi adesso tu No non è caduto Stavo per cadere io Vieni capibara Dai Pum C'è capibara Ok Forse Voglio far così Non si è buttato L'acqua Non so aiutare Mi dispiace Ho 85 Cose Ma con 85 Posso fare No non ho più di questo Voglio fare altri giri No Ah facciamo il giro di questo Eh Ma cosa sono queste strane moneta No 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 Eh Eh tipo devi Ok Forse ho capito Secondo me tipo devi Completare la barra Poi puoi sbloccare la schimma Dai Ma questa E questa ruota è scam 600 Così è scam Quindi se io ci ho passi un'offerta Prendo questi cosi Posso girare la ruota E poi Sbloccando più volte la stessa Posso avere la skin Ah Ma l'hanno aggiornato Adesso è più difficile Il capibara 1150 Ma è pazzo Regà È tanto Sarebbe tipo 8 euro Una skin Regà Impazziti Vabbè ragazzi Sperate che questo video Da me Da Da me Dilanino Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate like Se avete altri Mio video Ragazzi Perché Insomma Vorrei anche Fare un video Su minecraft E Perché io non ci ho mai giocato A minecraft E quindi Se Volevo giocare Quindi Venite Ci vediamo nel prossimo Ciao ragazzi